E' Take All the Risk, placca e rischio, lo spot che ha per protagonista la nazionale di rugby neozelandese All Blacks. Il video è stato girato per la compagnia assicurativa AIG, sponsor ufficiale della nazionale neozelandese per la campagna pubblicitaria della Coppa del Mondo di Rugby che si terrà nel 2019 in Giappone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.